E' evidente che ci troviamo a trattare un argomento molto impegnativo e molto difficile perché fondo asilo, immigrazione e integrazione è evidente che è uno dei problemi più scottanti soprattutto nell'Europa di adesso. Diversi fondi sono stati dati per questa programmazione e è evidente che poi spetterà anche un compito molto importante ai Paesi membri per fare in modo che questi fondi vengano poi gestiti e usati nella maniera migliore. E' sicuramente importante che in queste relazioni si parli anche della solidarietà che ci deve essere fra i vari Paesi europei perché ovviamente ci sono i Paesi, soprattutto quelli del Mediterraneo che si sono trovati spesso e volentieri da soli ad affrontare il problema, spesso e volentieri che c'è stato riguardo alle ondate di migrazione. Tra l'altro purtroppo ci sono state anche numerose tragedie del mare. E' evidente che questa solidarietà va ricordata spesso perché è uno dei punti fondamentali per far vedere che l'Europa effettivamente può rendere da questo punto di vista. E' importante non dimenticare che spesso e volentieri dietro all'immigrazione, in particolar modo quella clandestina, c'è anche una vera e propria tratta di esseri umani. Con miliardi di euro che purtroppo alcune persone che sono evidentemente prive di scrupoli, tentano di... che usano, che sfruttano, insomma. E quindi è evidente che il fatto che le polizie debbano cooperare fra di loro è uno dei punti fondamentali che le polizie europee debbano cooperare fra di loro e che cooperino anche con le polizie dei Paesi di provenienza di determinate persone. E' evidente anche che le migrazioni devono essere ovviamente supportate anche dal vedere nel momento in cui sono compatibili, perché ci sono dei momenti, soprattutto in questa situazione economica, in cui è evidente che è difficile integrare delle persone, perché per integrare delle persone queste hanno bisogno sicuramente di lavorare e anche di poter avere una casa dove alloggiare. Mi complimento con i relatori per l'ottimo lavoro svolto, ma spero davvero che le risorse finanziarie siano effettivamente destinate alle priorità principali. Primo, una politica degli ingressi chiara e senza deroghe, sì agli immigrati regolari che hanno un regolare permesso di studio o di soggiorno, anche ovviamente per motivi di lavoro, sia ai richiedenti asilo con un occhio di riguardo ai soggetti più vulnerabili, soprattutto i minori, ma rimpatri obbligatori per gli irregolari. Due, una politica di condivisione europea delle emergenze umanitarie per lavorare all'obiettivo di un sistema di ricollocazione obbligatorio dei rifugiati all'interno dell'Unione Europea. Tre, l'istituzione di corridoi umanitari quando ci sono crisi umanitarie serie. Per l'immigrazione noi dobbiamo passare dalle risposte di emergenza affannose e frammentate che creano tensione e paura nella popolazione a interventi e politiche più strutturali, più razionali, più integrate e complete, come è stato detto. I fondi devono rispondere a questa esigenza, per far capire all'opinione pubblica, a volte spaventata, che questo fenomeno che continuerà, perché fa parte della nostra storia e della nostra fase storica, questo fenomeno noi possiamo affrontarlo combinando insieme attenzione, accoglienza e sicurezza.